Tu volevi uccidere gli assassini di tuo padre? No, il loro mandante. E chi è? Don Ciccio. Don Ciccio? Sì, ho tentato in tante altre occasioni di ucciderlo, ma non ci sono riuscito. L'unica speranza che mi restava era di prendere la tua pistola e di ammazzarlo. E questa notte è l'ultima notte che sentirai. Sogni miei, i primi diattini in cui volavamo insieme. Sai, solo noi, dentro noi, il fuoco che arde per sempre. Solo per te. Lasciamo le mani, Don Ciccio. Don Ciccio, vi dovremmo parlare, col vostro permesso, e con quello della signora. Stimatissimo signor Don Ciccio, Vi ringrazio del grande onore che mi avete dato nell'avermi invitato a questo simposio. Don Ciccio, vi dovremmo parlare. 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 Don Ciccio. Don Ciccio. Don Ciccio. Don Ciccio. Don Ciccio. Don Ciccio. Don Ciccio.